Oggi un video per tutti gli appassionati di box singola batteria intercambiabile Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati in un nuovo video del Santone dello Svapo Oggi vi parlo di un nuovissimo prodotto di GeekVape Che poi nuovissimo non è Perché alla fine è un restyling di una delle loro ultime box Però con delle grandissime migliorie La box è la GeekVape Max 100 Kit In questo caso perché sia atomizzatore che box Grandissime migliorie detta di GeekVape Perché è ancora più IP68 dell'IP68 Perché hanno detto no, l'abbiamo fatta ancora più resistente agli urti Ancora più resistente agli schizzi Ancora più resistente del resistente Finalmente può montare sia le 18650 che le 21700 La cosa veramente notevole sono le 21700 Dentro a questo spazio se pensiamo alla prima box 21700 Ve la ricordate la prima Aegis di GeekVape con le 21700? Era così grossa Adesso siamo arrivati a delle dimensioni decisamente più umane Ora la andiamo a vedere da vicino Poi prova di svapo e considerazioni finali Ed ecco voi ragazzi la scatola della GeekVape Max 100 Watt Kit Scatola nera per recensori Logo GeekVape E la scritta che il prodotto in questa confezione non è per la vendita E inoltre sul retro leggiamo che è un sample Contenuto della scatola e i vari marchi Aprendo la scatola troviamo la box e l'atomizzatore Un vetro di ricambio Il manuale di istruzioni E in più abbiamo questa scatola con dei ricambi e degli accessori Qui c'è l'adattatore per batterie 18650 In più abbiamo gli OR di ricambio e l'utensile per togliere la resistenza Cavo di ricarica USB-USB-C di GeekVape E una dual coil aggiuntiva da 0,25 ohm in cantala 1 Parto facendovi vedere l'atomizzatore che è il GeekVape Z Del quale vi ho già abbondantemente parlato Uno degli atomizzatori in assoluto migliori Nel panorama degli atomizzatori con resistenze prefatte da polmone Penso che non abbia bisogno di ulteriori presentazioni Vi faccio solo vedere che qui abbiamo la scritta Subom 2021 Tank GeekVape Z I vari marchi seriali Ragazzi questo è davvero un atomizzatore ottimo Che ho consigliato ben più di una volta e che abbiamo già visto Quindi ora la andrò a ricaricare e vi farò vedere la box Unica cosa che vi voglio far vedere è la resistenza inserita all'interno Che è da 0,2 ohm a mesh Una volta caricato l'atomizzatore come al solito Aspettate tre minuti prima di farlo partire Per far sì che il cotone si bagni correttamente E nel frattempo noi ragazzi possiamo guardare la box Tasto grande qui per accensione, spegnimento e fire Qui abbiamo i pulsanti più e meno La presa USB-C è qui all'interno E la box è anti-urto, anti-polvere, anti-acqua eccetera 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 Le finiture della box come potete vedere sono ottime Dicono che hanno praticamente inrubostito ancora di più la box E sia ancora più a prova di polvere, acqua e urti rispetto al modello precedente Quindi quello che vado a fare è togliere il tappo E qui ragazzi abbiamo finalmente il vano per la 21700 E non solo la 18650 Quindi vado a inserire la 21700 e vado a richiudere Qui abbiamo il display In alto abbiamo modo power Poi vediamo l'indicazione dei watt Gli ohm, la resistenza, i volt e il conto dei puff Qui di fianco abbiamo questo selettore Che ci permette di andare a bloccare tutti i tasti Anche come nella box precedente Ora vado ad avvitare il mio atomizzatore Ci chiede se la resistenza è nuova oppure no In questo caso è nuova quindi vado a fare più Ci imposta agli 0,20 ohm per la resistenza Vado ad alzare all'intorno dei 35-40 watt Vedete che l'incremento è di mezzo watt alla volta Premendo tasti più e meno contemporaneamente Vado a bloccare E vedete che se li ripremo non accade nulla Però il file rimane attivo Se tiro giù la levetta vedete che si blocca tutto Fire compreso L'unica cosa che potete fare come mi è successo a me adesso Che con 5 click la potete spegnere Sbloccando la box E facendo 3 click su tasto fire Possiamo entrare all'interno del menu Quindi temperatura acciaio inossidabile TCR Potete impostare il VPC Andare in funzione bypass Oppure usare il power classico Rimanendo all'interno della selezione delle funzioni Se premete più e meno contemporaneamente Andate a cambiare i colori del display Ora torno in power E blocco nuovamente il display E questo ragazzi è fondamentalmente tutto per le funzioni della box Insomma è una box classica di Geek Vape Però ragazzi che resiste ancora di più agli urti Ancora di più agli schizzi Ancora di più alla polvere E che monta 21700 Quindi per la vista da vicino del nostro prodotto è tutto Ora andiamo alla prova di svapo E alle considerazioni finali Ragazzi atomizzatore Come vi ho detto Semplicemente ottimo E bella gestione della batteria ragazzi Perché io sono a 45 watt Ci svapo tranquillamente Bene o male con una roba del genere Per me è un giorno intero Se non siete particolarmente compulsivi Ragazzi glielo portate a casa Con una di queste batterie Quindi andate in giro con una batteria inserita Magari una 21700 in più E fate tranquillamente la giornata Ma proprio alla stra grandissima E vi avanza anche un po' per il giorno dopo Come al solito IP68 Tutte queste batterie ragazzi Tutte queste battery box Non solo batterie Perché la batteria è quella che ci va dentro Tutte queste box ragazzi Sono il top Per chi fa dei lavori Dove rischia che cade Si sporca Gli schizzi Non schizzi Vuoi andare in campeggio Cosa ne so Comunque È una box Veramente robusta E resistente Ragazzi Che funziona Veramente Molto Ma molto bene In più A quella che abbiamo visto Qualche mese fa Che cosa ha Che ci va anche la 21700 Finalmente Quindi Per tutti gli amanti Delle battery box Con batteria Estraibile Questo qui è un altro prodotto Da prendere in seria Considerazione Tutti quelli che mi chiedono Ma Santone Quell'atomizzatore lì Va su quella box Posso mettere Quell'atomizzatore Su quell'altra box Allora Gli atomizzatori hanno Un attacco Che si chiama 510 In gergo Che è l'attacco Con sto filetto qui Che ce l'hanno tutti Se le box hanno Lo stesso attacco Ragazzi Potete accoppiare Praticamente Quello che vi pare E su questa box Ci potete mettere Quello che vi pare Oltre all'atomizzatore Che vi danno Loro Ok Quindi Brava Geekvape Non è che ci sia Tutta sta novità Onestamente Però Ragazzi Il prodotto Funziona Veramente bene E finalmente Va con le 21 700 Inoltre Come vi ho detto Dicono che è ancora Più resistente Di prima Insomma IP68 Io ragazzi Vi ringrazio Vi saluto come al solito Con l'ultima svappata Ci vediamo alla prossima E che lo svappo Sia con voi Ciao ragazzi Ucraina Nilsson Tone Dele Lose Vapone Un'ultima 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 Un'ultima